Sei completamente pazza, hai due figlie, un marito, ma che cosa pensavi di fare? Non lo so. Guarda, questo per me cambia tutto. Ma cosa vuol dire? Non possiamo continuare a lavorare insieme? No. Posso rimanere a casa tua? Guarda, preferisco pagarti un albergo, tanto che trovi una sistemazione, eh? Buona fortuna.